Ben trovati amici del Centrometro Italiano. Una perturbazione in transito sull'Italia con piogge temporali e neve fino a bassissima quota, come potete vedere dalla webcam imbiancata di Rimini. I fenomeni andranno però rapidamente esaurendosi già a partire dalla serata di lunedì 17 dicembre, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Martedì 18 dicembre una piccola rimonta anticiclonica determinerà condizioni di tempo stabile, ma da mercoledì 19 è atteso un nuovo peggioramento ad iniziare dalle regioni nord-occidentali. Una perturbazione atlantica ritornerà a portare maltempo sulla nostra penisola, almeno fino a giovedì 20 dicembre. Aquazioni e temporali bagneranno soprattutto il centro-nord, con la neve ancora una volta pronta a cadere fino a quote molto basse. Per tutti gli aggiornamenti sulle evoluzioni del meteo nelle prossime ore e nei prossimi giorni vi invitiamo a visitare il nostro sito ed iscrivervi al nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.